La prima cosa che mi chiesi Il pugilatore fu quella che mi colpì di più Immaginai come persone che combattono in prima fila A torso nudo e scalze Utilizzando lo scudo come unica protezione Mostrando coraggio e forza Ancora oggi ci raccontano tante storie Di devozione verso la propria terra Di abilità, eroismo e sacrificio Per non dimenticare il nostro passato Di origine della nostra civiltà Grazie 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 Grazie